Amo il dolce, ma è meglio il salato. Marco e Luigi vanno alla riunione. Non mi piace il pesce, ma amo la carne. Ho voglia di uscire. Ma ho molto da fare. Dopo cena leggo libri o guardo film. Prendo il treno o l'autobus per Pisa. Non ho studiato, ma passerò l'esame. Bevo il caffè, ma preferisco il tè. Non mangio carne né pesce. Vado al mare o in montagna in vacanza. Vuoi la pizza o la pasta per cena? Ho fame, ma non ho tempo di cucinare. Ho visto il film, ma non mi è piaciuto. Luca è stanco, ma oggi si allena. Io Tu Lui, lei Noi Noi Voi Voi Loro Loro Me Te Lo 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 La Ci Vi Li Li Mi 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 Ti 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 Mi Gli Le Ti Vi Ti Ti vi gli mio tuo suo suo nostro vostro loro quanti di voi vanno al cinema domani? quando ti svegli la mattina? alle sei e mezza quanto costa un caffè? due euro e cinquanta quanti animali hai? un cane e due gatti dove abiti? a Venezia? no abito a Milano come trovi i nuovi vicini? sono simpatici quali libri stai leggendo ultimamente? quanto stai in vacanza? circa un mese chi conosci in quella scuola? solo Luca quanta gente è venuta alla tua festa? da quanto abiti qui? da cinque anni qual è il tuo cibo preferito? la pizza che lavoro fai? faccio faccio l'insegnante quando hai finito la scuola? a diciotto anni stiamo andando tutti da Claudia questo vestito è di due anni fa Paolo vuole qualcosa da bere hai una casa piena di quadri siamo usciti da quel negozio domani non ho nulla da fare la porta è di nuovo chiusa ti ho visto da qualche parte l'auto di tua nonna è verde c'è una lettera per te da Parigi c'è una lettera per te da Parigi Claudia ha finito di studiare il vaso è caduto dal balcone Luca è stato al cinema da solo oggi partite col volo del luna stiamo tornando dalle vacanze quel telefono è di mio cugino tu ti chiami Stefano quanti anni ha tuo figlio? loro sono i miei amici mi piacciono gli spaghetti mio figlio va a scuola lui regala i suoi giochi voi venite a casa stasera voi venite a casa stasera non voglio andare al cinema qui a destra c'è il bagno come stanno i tuoi figli? di che colore è l'auto? possiamo giocare a calcio? certo che potete andarci vanno alla scuola media? perché non fate i compiti? preferisco giocare a carte lei si chiama Claudia andare io vado tu vai lui lei va noi andiamo voi andate loro vanno venire io vengo tu vieni lui lei viene noi veniamo voi venite loro vengono voi venite loro vengono vado vado al cinema con i miei amici alle sette veniamo a casa tua andiamo a studiare in biblioteca Claudio viene alla festa da solo non vado non vado d'accordo con Luca non vado d'accordo con Luca sabato viene a trovarmi mia zia dobbiamo andare via dalla piazza dobbiamo andare via dalla piazza non mi vanno gli spaghetti oggi quando vai in vacanza a pisa non mi viene in mente niente oggi lisa non viene in ufficio vieni in spiaggia insieme a noi vado in vacanza con la famiglia vado in vacanza con la famiglia vado in vacanza con la famiglia ci andiamo domattina alle nove domenica andiamo al concerto mio cugino va in bicicletta d'ora in poi non ti do più la mia auto ci vediamo domani alla stessa ora ho incontrato tua cugina poco fa non vado quasi mai a mangiare fuori un anno fa ero in vacanza a Napoli fra poco usciamo per andare al mare per il momento non so cosa dirvi sono certo che prima o poi ce la farai hai cambiato idea all'imperviso i diamanti durano per sempre oggi andiamo a sciare in montagna mi sono svegliato presto stamattina se oggi è giovedì ieri era mercoledì tra una settimana andiamo in ferie sono stato in biblioteca di recente prima mangiamo e poi usciamo telefono subito all'agenzia di viaggi stai ancora lavorando in ufficio? domani andiamo tutti al cinema non prendo spesso l'autobus noi siamo già arrivati in stazione Luca ha bisogno di un po' di vacanze per guadagnare bisogna lavorare ditemi di che cosa avete bisogno bisogna partire prima delle nove la nonna ha bisogno di aiuto oggi Luigi è nei guai bisogna aiutarlo per fare l'esame bisogna che studi chi si allena ha bisogno di acqua per partire bisogna fare le valigie Claudio ha bisogno di andarsene bisogna che ti svegli più presto abbiamo bisogno della tua auto non c'è bisogno di mangiare tanto hai bisogno di fare una pausa di che cosa hai bisogno bisogna aspettare in silenzio per leggere bisogna avere un libro bisogna che qualcuno ti spieghi hai bisogno di uscire di più hai bisogno di uscire di più bisogna che lui si svegli presto Luca ha bisogno di 200 euro io cantavo cantassi io facevo facessi io stavo stessi lui era fosse lui cominciava cominciasse lui leggeva leggesse io dicevo dicessi noi bevevamo bevessimo noi davamo dissimo io guardavo guardassi tu capivi capissi io bevevo bevessi bevessi tu dormivi dormissi tu vedevi vedessi tu eri fossi lei aveva avesse noi davamo dissimo dissimo lui faceva facesse facesse voi eravate foste foste voi uscivate usciste lei diceva dicesse noi noi sapevamo sapessimo voi potevate poteste noi pagavamo pagassimo voi mangiavate mangiaste loro arrivavano arrivassero loro venivano venissero loro avevano avessero la mia amica si chiama Laura i miei nonni si alzano alle sei tua mamma si arrabbia spesso voi voi vi svegliate troppo tardi vai a tagliarti i capelli tu non domandarti il perché io mi stanco molto velocemente noi ci ricordiamo le nostre vacanze i miei vicini si godono il panorama stasera addormentati presto tu ti diverti molto con gli amici per nuotare mettiti la cuffia io mi lavo i capelli ogni mattina tu e luca vi sentite ogni sera tu ti sbagli a dire questo mio nipote si laurea quest'anno nostro padre si fa la barba voi vi specchiate continuamente noi ci vestiamo in modo elegante voi vi bagnate sotto la pioggia claudia si pettina i capelli luca e claudia si sposano a luglio noi quando ci vediamo vado al mare vado al mare e mi abbronzo adesso mi rilasso sul divano con questo film mi annoio molto voglio sedermi sulla sedia devi avvicinarti per parlare grazie 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 grazie